Ciao ragazzi! Allora, oggi ci cimenteremo in un video culinario, cioè in realtà no, perché non dobbiamo cucinare, però dovremo assaggiare un sacco di cose ed è un video da cui abbiamo preso spunto da Chiara, perché lei l'ha fatto insieme a Baso e dato che mi ha fatto morire da ridere, mi è piaciuto troppo, ho detto Sofì, dobbiamo farlo anche noi. Quindi stamattina volevamo fare un video insieme, siamo andate a fare la spesa, abbiamo cercato, perché adesso vi spiego un attimo di cosa si tratta, abbiamo cercato i cibi che hanno sia delle... no, aspetta, dei cibi... Non so spiegarla! Abbiamo cercato dei cibi originali e delle sottomarche. Semplicissimo, cioè più difficile da dire che da fare, semplice, praticamente le gocciole o i simil gocciole, lo yocca, la red bull, coca cola, nutella, abbiamo preso un sacco di buone cose, di buone cose. Quindi adesso ci venderemo e qui abbiamo il nostro aiutante che ci passerà le cose, così ovviamente noi non vedremo, andremo a assaggiare e dovremo indovinare con questi bei cartelli se è fake o original e vince chi indovina più cose. Sì. Quindi è una sorta di challenge. Sì, con un ponteggio alla fine. Esatto. Ok. Io non ce la faccio da sola. Come non ce la fai? Non riesco a legare. Facciamo che lo tolgo, sto robo, va. Aspetta che sono concentrata, che io e i fiocchi non siamo mai andati d'accordo. Considerate che io sto mettendo la benda a lei senza guardare. Aspetta che devo fare il doppio. Sto prendendo anche i tuoi capelli. Sì. Ok. Questi sono i nostri biscotti, ma se le mettiamo verso giusto almeno. Non lo so. Perciò dobbiamo indovinare di cosa si tratta e se è la sottomarca oppure la marca originale, diciamo. Sì. No, ragazzi. Già dalla chiusura, secondo me, è il mio di marco, vabbè. Sì, ragazza. Comunque ricordati che non dobbiamo dire secondo noi che cos'è, perché se non è uno è l'altro, quindi vince chi indovina. Secondo me i biscotti sono tutti uguali, quindi... Sono quelli con i cereali che ogni volta che li mangio poi devo lavarmi i denti prima di uscire, sennò ho i denti pieni di cosini neri. Allora, noi qua davanti adesso abbiamo i nostri fogli. Ricordati che a destra c'è il cartellone fake, a sinistra quello original, perciò prendi quello che secondo te è il tuo pacco. Ma li vedi? Allora, qui davanti, adesso voi non so se li vedete, abbiamo i due fogli. Sì, quello a destra è fake e quello a sinistra è original, perciò prendi quello che secondo te è il tuo pacco. Ma qual è il secondo? Sofì, madonna, te l'ho già spiegato altre volte? Sì, ok, capito. Allora, apriamo gli occhi. Vado? Aiuto. È giusto. Guarda che brutti che sono quelli finti. Io ho capito sempre che sono finti. Perché? Si capito subito, perché non hanno zucchero. Ci volevano le mascherine, ma purtroppo non le avevamo qua. Allora, adesso abbiamo davanti il nuovo pacchetto. Cos'è sta cosa? Ah, io ho intuito. Io no. Sembra, sapete cosa? Delle spugnette, quelle per lavare i piatti. No, non è facile. Vabbè, apriamo. La colistirola. Io ho già capito. No, possiamo dire che cos'è? Waffle, come si dice? Waffle. Waffle. Waffle, domani. Che buoni alla nocciola. Mi piace questo tag in cui si mangia. Votiamo. Ho sbagliato io. Perché? E apri. Perché tu eri fake e pensavo che il mio fosse fake. Yeah, the best, the best. Non lo so perché avevano un sapore secco. Ma no, ma perché questi qua sono fatti con la crema di nocciola, questi con la crema di mandorle. Cacao. Cacao. Crema al cacao. Questi qua sempre della primia e questi della loaker. Comunque ho sbagliato, quindi siamo 2 a 1. 2 a 1 per lei. Ora... No, no, aspetta, aspetta che devo mettere ancora la mia pandana. Ancora? Ok, adesso la Red Bull, in teoria. Quella originale e la similmarca, la sottomarca. L'hai già aperta? Ah, sì. Io sono terrorizzata perché voi dovete sapere che a me fa schifo. Cioè, è una delle cose che mi fanno di più vomitare. Oddio, che buon sapore! Mamma mia, ragazzi, se mi becco la Red Bull... No, non dire niente. L'assaggiamo? No, aspetta, Sofia, che mi devo preparare psicologicamente e mi fa troppo schifo. Sento un odore. Anch'io ha un buonissimo odore. Vai. Oddio, non riesco a bere. Non ho mirato il buco. Buona! Anch'io penso che sia buona, quindi sicuramente... Vabbè, sto zitta. Io so benissimo che è questa. Spero di aver preso il cartello giusto. Comunque... Ma mi hai rubato il cartello? Oddio, no, davvero. Ok. Apriamo? Ma aspetta, sbagliato. Il fake a destra. Pensavo che il fake fosse a sinistra. Vado? Vai. Fake. No! Ma per forza, perché questa è buona, non sa di Red Bull. Va a sentire. Pensavamo che avessero lo stesso sapore, infatti l'abbiamo preso, e il mio sa di... Ma questo qua... È buono questa qua, se di... Non lo so, di miele, di qualcosa del genere. Ma io questa qua, senti, sa di fragola. Sa di fragola. Eh, lo so che sa di fragola, solo che dovete sapere che io quando ero piccola, sono stata malata per molto tempo, e quindi continuavo a prendere l'antibiotico, e la Red Bull ha il sapore dell'antibiotico. Questa sa di molto. Ho indovinato io, quindi siamo... Due a due. Vai, datti cinque. Non potevo sbagliare la... La Red Bull. La Red Bull. Giochiamo a carte. Dai, giochiamo a carte con i Wuster questa volta, ci dicono. Allora, vediamo un po'. Apriamo? Sì. A me non mi piace perché c'è una gelatina sopra i Wuster. Però i Wuster cruzi sono buoni, ragazzi. Non fanno proprio bene. Buonissimi, soprattutto con la gelatina. No, io ho già capito perché si sente. Io non ho idea. Per me tutte le marche sono uguali di sti cosi. Aspetta, li tasto per capire la consistenza. Questi sono salati. Beh, io forse, secondo me... Io ho il frito. Aspetta. Questo foglio va di qua, questo foglio... Secondo me è così. Ecco. Uffa, sto perdendo, ragazzi. Anch'io. E anche tu. Io pensavo che fossero quelli originali perché non hanno la gelatina. Anche questi hanno la gelatina. Perché fai con la faccia schifo? Sono schifo. Come è schifo? Eh, sono salati. Abbiamo preso la marca che costava di più e quelli della Primia che sono appunto la sottomarca dei Tigros. Sì, anche sono più buoni quelli della Primia. Sono salati. Molto più buoni. Eh, guarda. Lei ha... Cioè, io e lei abbiamo dei cosi... Sono molto più buoni, sanno un sacco di buster. Sicuro. Però abbiamo sbagliato tutte e due, quindi siamo ancora due a due, sappiamo. Bene, adesso noi abbiamo due chicherini, solo il nostro aiutante sa effettivamente quale è dei due, quindi adesso assaggiamo, diciamo e poi scopriremo. Oddio, ho paura di inzaccherarmi tutte, ne sono sicure. Ci sei tu? No, non sto ancora mangiando. Credo sia fake. Ma ragazzi, ho sbagliato. Anch'io ho scritto fake. Sì, ma allora aspetta. C'è da dire che questa Nutella è qui da sei mesi. E cosa la gente? E farà schifo perché assaggiala, non è buona. Sempre buona. No, per farvi capire è quasi più buona questa che è falsa. 3 a 2, 3, 2, 3, 2. Per me è un woohoo. Ah, vi dico come sappiamo che è falsa. Quella falsa ne avevamo messa un po' sul bordo. Che cosa dite? Ma, ma abbiamo i cosi. Vai, o quale? Mischierami. Vai, mischiare, vai, mischia. Oddio, cos'è questa cosa? Sembra yogurt. Una via di mezzo tra yogurt e formaggio. Ho paura di sporcarmi. Oddio. Che festi versi, buono. Eh, ma è un po' d'acqua. Ora ragazzi, io so cosa sono. Sono buoni, sono i fiocchi. Eh, grazie, cosa sapevo anch'io. Che schifo, non mi piacciono, no? I fiocchi di latte. No. Come faresti versi? Buono, io ho capito. Anch'io. Aspetta, vedo. Apro? Vai. Yeee! Quindi siamo? Tre pari. Tre pari? Oddio, non la trovo, ce le hai mangi tutte? Io le stavo cercando, le stai mischiando. Aiuto. Dai, dammene una, che ho voglia di bere, che mi devo pulire la bocca di tutte queste cose. Ok, ci sei? Vai. Assaggiamo? Eh, dammene una. Dammene un'altra. Ah, ok. Ok. Vado? Vado? Mmm. Spero di aver preso quella giusta. Vado? Alziamo? No, ragazzi, cioè, la mia è fake. C'è scritto F sullo bicchiere. Adesso, Fì, la mia fa cagare, cioè, se vuoi assaggiarla. È scandalosa questa cola fan della primia. Le bibite forse sono una delle cose peggiori fake. Dammi la bocca. Tavoli, c'è una differenza pazzesca. Quattro a tre. Chi sei? Sophia, ma ti sei vendato o no? Sì. Ti sei vendato. Dai, dammi un po'. Eh, ho dato. Ok, vai. Mmm, dal profumo io ho capito di cosa si tratta. Eh, scusate, ti credo che te perdo. Ma si può fare un confronto con gli due biscotti? Eh, no, sono troppo facile. Mmm. Quando ero piccola, erano i miei biscotti preferiti. Quindi, se non li indovino, sono una cogliona. Ok. Perciò... Vai. Yeah! Quattro pari! No, uffa, è vero. Ma come facciamo? Siamo a quattro pari, ragazzi. Che delusione, ero già convinta di aver vinto. No, non siamo quattro pari. No, scusa. Perché ho indovinato anch'io. Quindi eravamo quattro a tre, siamo cinque a quattro. No. Ho vinto io? Eh sì, eh. No. Eh sì, scusami. No, non è che prima, quando abbiamo fatto il tuo evento, già io ho messo fecca. Comunque, il verdetto finale sarà qua sotto, perché poi, rimontando il video, riguarderemo e conteremo tutto. Perciò, rullo di tamburi, solo voi in questo momento saprete chi ha vinto. Noi, per ora, non lo sappiamo ancora. Perciò, questo è stato il nostro fantastico video challenge, prima dell'estate, giusto per mangiare un po' di schifezze, per prepararci alla prova costume prima di andare al mare. Fino a settembre, purtroppo, non vedrete più Sofia. Se volete vedere altri video, non lo so, sia challenge, sfide, trucco, qualsiasi cosa insieme. Io sto cercando di liberarmi da sto coso. Comunque, scrivetelo e ce lo giude in commenti, così prendiamo un po' di spunti. Sti biscotti sono rimasti qua, poverini. Questa ragazzina parla sempre, quando è davanti alla telecamera, le tagliano la lingua. No, perché non so cosa dire, cioè, avevo intuito che erano fake, quindi... Un intuito? Vabbè, ma che è indovinato. Appunto, è indovinato. Vabbè, dai, il nostro siparietto è finito. Lasciateci un pollicino in su, se il video vi è piaciuto. E se arriviamo a 4.000 like, faremo un altro video insieme. Perciò, spolliciate e ricordatevi di iscrivervi al canale. Qua sotto c'è il pulsantino rosso. Cliccate anche la campanella se volete avere le notifiche ogni volta che usce un video. Lo so che sono un po' irregolare, ma così, almeno, ogni volta che esce, vi arriva la notifica. E basta ragazzi. Vuoi dire qualcosa? No. Allora, niente. Ciao! Ciao!